Foggia cammina ma proprio non riesce a volare. Sono passati 63 giorni dalla conferenza stampa in cui il governatore Michele Emiliano aveva annunciato quella che doveva essere la soluzione definitiva per il Gino Lisa, una hub della protezione civile per riaprire lo scalo foggiano, ma ad oggi il silenzio sulla questione è assordante. E suona ancora più beffardo proprio mentre Aeroporti di Puglia fa sapere che il mese di novembre ha fatto registrare un trend positivo per quanto riguarda il numero dei passeggeri in arrivo in partenza dall'aeroporto di Brindisi che chiude novembre con un 4% in più rispetto allo stesso mese del 2016 e un più 7% per l'aeroporto di Bari con un aumento dei voli internazionali. Numeri destinati a crescere in vista della chiusura del Voitila di Bari per, nemmeno a dirlo, lavori di ammodernamento della pista. Uno smacco dopo l'altro, insomma, per il Gino Lisa, inchiodato al palo da promesse mai mantenute. Perplessità erano state espresse nei giorni scorsi dal consigliere regionale Gian Diego Gatta e dal presidente della Camera di Commercio Fabio Porreca. Si faccia chiarezza sul perché, anche questa volta, sono stati utilizzati due pesi e due misure, questo l'appello di entrambi. Il Comitato Gino Lisa, intanto, fa sapere che è già pronta una nuova mobilitazione e che chiederanno risposte concrete all'assessore regionale nunziante. Intanto, secondo indiscrezioni dell'ultima ora, l'Aggiunta regionale approverà, con la legge di stabilità predisposta dall'assessore al bilancio Raffaele Piemontese, un articolo che stanzia 150.000 euro per la procedura SIEG, ovvero studi, consulenti e altri servizi di interesse economico generale destinati al Gino Lisa, che sia un piccolo passo verso l'avvio dei lavori. Grazie a tutti.